Siamo partiti da macerie a prima, accuse mosse, l'idea di che cosa c'è prima delle macerie e al tempo stesso l'accusa mossa alla realtà per come rende le macerie. E poi c'è la trasformazione che ne può fare l'arte, che ne può fare il tempo, che alla fine è anche un alibi e che può portare al processo delle cose. Sembrano legami di parola ma sono legami d'effetto, nel senso che la materia alla fine, soprattutto la carta, il ferro, la pietra, il sasso, la paglia e la rimanenza, dal concetto di rimani, dentro c'è anche l'idea della mano e quindi del lavoro, ha in sé l'idea proprio della distruzione. Dentro c'è anche un'istruzione nell'idea dell'istruirci, nel raccontarci che cosa possiamo farne di questo. E ci siamo mossi, con l'aiuto di Marco Minus, che ha curato la mostra, insieme a me, ci siamo mossi proprio sull'idea di lavorare anche su spazi chiusi, nel senso che abbiamo tre tecche di vetro che chiudono Frantum, per esempio, una divinità spaccata, cosparsa di piccoli mondi, che sono delle biglie, dalle più grandi alle più invisibili, fino ad arrivare a strappi, strati e a fenditure di catrame, con dei colori stradali, anche come idea di battito, battere la strada, batterla, compattarla, al tempo stesso disegnarci sopra, sia con la ruota che col passo, che col tempo, che con la pioggia. E quindi ancora una volta resti, rimanenze, avanzi, avanzi anche da avanzare, da camminare, da andare dove. Cose che si succedono, cioè una dopo l'altra, e anche cose che succedono, accadono. Poi abbiamo lavorato sugli angeli, su quella che è l'idea del volo, e quindi di un certo antropomorfismo della carta strappata, della carta appena disegnata e segnata, poi abbiamo lavorato su quaderni appesi al muro, ma sono delle scatole che si aprono e devono essere viste, formano quasi una tettoia sotto il visitatore, che le può vedere solo, aprendole, cercandole e muovendole. Il resto lo lasciamo a vetro e lo lasciamo a una grande ancora a freccia, che punta verso il profondo, sperando di andare a vedere sempre quello che c'è dentro. Grazie. Grazie.